Il triathlon sprint città di Cremona diventa maggiorenne in occasione della diciottesima edizione e schiera la partenza di domenica mattina alle 10 al centro sportivo Stradivari ben 450 atleti. Una gara che vedrà nomi importanti di questa disciplina. Qualcuno anche appena rientrato dall'esperienza olimpica di Rio ma anche over 60 perché il triathlon vuole diventare una disciplina alla portata di tutti. 750 metri di nuoto poi 20 di bici ed infine 5 chilometri di corsa per una gara che vede il record maschile a sestarsi attorno ai 55 minuti di gara e quello femminile verso l'ora e tre minuti. Un'edizione importante quella di quest'anno anche per quanto riguarda l'aspetto solidale. Gli organizzatori infatti hanno pensato anche alle persone terremotate. Insomma un'edizione da non perdere. L'appuntamento è per domenica mattina alle 10 al centro sportivo Stradivari come ci ricorda il presidente del gruppo sportivo Massimo Ghezzi. Le novità del 2016 sono che innanzitutto siamo 450 e questo è già qualcosa e poi ci saranno dei nomi importanti del triathlon italiano. Iniziamo con Alessandro Fabian che è appena partecipato a Rio arrivando 14esimo per la nazionale italiana e poi ci saranno anche le nostre atlete elite Verena Steinhauser, campionessa italiana olimpico di Acaurle e Veronica Signorini e Giulia Sforza. Mi fa molto piacere dire che arrivare ai triathlon tini ci saranno 70 atleti. Di questi 70 atleti un 25 sono allenati da Luca Zava che hanno fatto un percorso di tre mesi parlo di signore dai 30 ai 35 ai 60 anni 70 anni che parteciperanno alla gara di triathlon sprint e abbiamo pensato di fare partire in prima batteria e poi fare da testimonial per devolvere un euro ad ogni partecipante quindi ai 450 in favore dei termotati.